Musica Cari telespettatori, ben ritrovati anche quest'oggi con noi. Andiamo a spaziare stavolta in un campo molto particolare, però estremamente interessante e importante, più che mai in un momento in cui molti rimettono l'occhio anche in modo critico sulla propria abitazione oppure stanno terminando i lavori in un'abitazione nuova. Chi l'ha fatto, l'ha fatto questa scelta e con particolare attenzione all'isolamento, l'isolamento termoacustico sono due elementi importantissimi perché altrimenti il comfort dell'abitazione può essere gravemente compromesso, oltre che diventare anche molto dispendiosa. Quali sono le modalità per intervenire su un'abitazione già esistente, quindi con ristrutturazioni significative in modo efficace ed efficiente? Quali sono invece sul nuovo quelle tecniche che possono essere adottate? Quali sono le soluzioni che il mercato offre? Abbiamo scandagliato tra le varie aziende del territorio, ma non solo perché a livello nazionale ormai da tempo si è affermata. Abbiamo il piacere di avere qui con noi un imprenditore del nord-est, in modo particolare provincia di Padova, San Nero, Campo d'Arsego, Enrico Scappocchin, che è titolare di Repac. Ben ritrovato. Salve, Elna. Allora, lei è appunto un giovane imprenditore con un'azienda relativamente giovane, perché nasce nel 2000 però il tempo vola, siamo già 20 anni, quindi non è più tanto giovane, è ben consolidata, che ha fatto diversi step. Ma prima di entrare nel merito e raccontare ai nostri telespettatori l'azienda, io volevo capire e rispiegare questa importanza sempre più dell'isolamento termoacustico, dei ponti che si possono creare nelle abitazioni, di chi interviene e che occhio deve avere, questo è il problema, nel verificare che i lavori vengono effettuati in un certo modo, in modo consono, senza poi creare problemi. Perché quando tutto è finito, si dà, diciamo così, lo smalto finale, poi si va ad abitare e ci si rende conto di problemi che ci sono, vero? Esatto, grazie intanto, grazie a voi di avermi ospitato oggi. Buongiorno a tutti i vostri telespettatori di TV7. Elena, sì, in effetti il ponte termico è il tema che noi trattiamo ormai da anni nelle formazioni, nel ordine degli architetti, nel collegio geometri, perché è questo che facciamo noi come azienda, ormai da più di 10 anni facciamo le formazioni per spiegare appunto la modalità di eliminazione del ponte termico gestita con chiaramente i nostri prodotti. Che voi principalmente producete e poi fate anche formazione, perché l'importante è abbinare adesso queste due cose, ricerca, sviluppo, formazione, oltre alla produzione. Esatto, Elena, noi come Repac siamo un'azienda che produce il polistiene espanso da 22 anni ormai, quindi abbiamo passato alla maggiore età, siamo alla maggiore età, quindi con una ricerca continua, uno sviluppo continuo, sempre più attento all'oggi, perché la costruzione di oggi, 2022, non c'entra niente con quella del 2010. Non dovrebbe c'entrare niente. Non dovrebbe c'entrare niente, ma come anche sotto il punto di vista degli impianti, degli isolamenti termici, ma degli spessori anche che vengono usati adesso per l'eliminazione del ponte termico, ma nel tenere il rapporto calorico di energia che andiamo a creare in casa, tenerla in casa e non disperderla, perché in primis oggi abbiamo visto il problema energetico delle bollette e noi siamo i primi anche ad avere subito questo grosso impatto, perché la nostra azienda è energivora nel 95%, quindi tutti i nostri strumenti sono comunque elettrici, quindi abbiamo anche installato un impianto fotovoltaico per andare ad ammortizzare questo grande scoglio. Quindi la vostra realtà aziendale cerca di in qualche modo abbattere i consumi, voi stessi mettendo un impianto fotovoltaico? Esatto, siamo noi i primi a essere green e anche con il reciclo del polistirolo, perché sì, a che si dica che il polistirolo espanso è un prodotto, è prodotto appunto, scusatemi la ripetizione, con il petrolio, ma è l'unico prodotto che ha smaltimento, ha ciclovita pari a zero, perché tutto quello che viene portato in discarica ce lo portano a noi e noi a costo zero lo ritiriamo, lo maciniamo e lo rimettiamo ancora nel mercato, sia con il fattore CAM, quindi con i criteri ambientali minimi, quindi riproduciamo materiale di materia prima, sia tutti quei sacconi che vanno poi negli alleggeriti, quindi in natura, bravissima, esatto, a costo zero, cioè non esiste nessun prodotto oggi che a costo zero venga smaltito. Ecco, come mai già appunto 20 anni fa, se ne iniziava già a parlare effettivamente, però è una cosa anche molto blanda, avete già iniziato a pensare all'isolamento termoacustico, ecco, acustico era già un problema effettivamente, però termico ancora si sciallava, ancora anche fino a 10 anni fa si andava tranquilli, come mai, da che cosa è nata questa idea con l'impiego di un materiale che non è conosciuto, però dopo sono le modalità con cui viene impiegato o assemblato che fanno la differenza, no? Esatto, beh, è in primis, è la normativa che convoglia comunque i costruttori a essere sensibili più a un fattore che ad un altro e 15 anni fa era molto sentita la parte acustica, ma per fortuna, perché in un appartamento quando vivevamo la nostra quotidianità si sentiva il vicino, quindi non è un confro, non è un benessere questo che viviamo la nostra casa, quindi, ahimè, per fortuna hanno comunque messo questa normativa restrittiva sulla parte acustica e dopo, via via, c'è sempre stato più il bisogno di coibentare, di isolare queste case proprio per non sprecare energia perché costa sempre di più. Quindi utilizzo del materiale di questo poliestere espanso, giusto? Polistirene espanso, polistirene espanso, che brutalmente viene chiamato polistirolo. È polistirolo, l'avete utilizzato in che termini e come? E quindi qua possiamo andare a capire come il grande gioco dell'azienda incomincia, per cui da che cosa è nata questa idea? Una bella domanda, vi racconto un po' la mia storia, quindi noi siamo, io sono nato, io sono partito nell'anno 2000 e io e un mio socio, che è anche mio zio, abbiamo aperto questa azienda che è la Repac. Allora avevamo acquistato questa azienda che produceva prettamente imballaggio con macchinari obsoleti e chiaramente dopo il primo anno di attività, premetto che siamo partiti senza né arte e né parte perché io venivo dallo studio, dai banchi di scuola, avendo avuto tantissime esperienze però perché nello studio ho sempre fatto qualcosa e mio zio anche, che è il mio socio, non avevamo nessuna competenza sul polistirolo ma meno ancora sulla parte edile, quindi siamo partiti, abbiamo scoperto il primo anno la lavorabilità del polistirolo, del polistirene, siamo entrati, eravamo comunque in questo mercato dell'imballaggio, dopo poco tempo abbiamo visto che questo mercato era un po' marginalmente, parlando, basso e guardandoci dove potevamo metterlo, dove potevamo venderlo, cosa poteva farsi, perché si, dov'è, a cosa serviva, abbiamo visto nei cantieri, ho visto che se ne usavano tantissimo, Elena adesso la farò sorridere, io sono partito nel 2001 prendendo un foglio a quattro, piegandolo in tre parti, facendo, sai, col powerpoint, con i programmini, fai da te, un cataloghino, copiando dagli altri, grandi che sapevano il fare, i prodottini, mi sono messo, perché io andavo in giro con il mio Iveco Delia a consegnare anche la merce, no? Quindi andavo dagli imprenditori, che fa di tutto, dalla produzione alla commercializzazione. Non proprio da capire, dal fare, ma dalla conoscenza del cantiere, perché mi fermavo nei cantieri e gli andavo a dire, senti un po', dico, guarda, non mi pagano nemmeno lo stipendio, devo vendere se voglio essere pagato, vi serve questo materiale? E mi dicevano, sì, ma dov'è che lo vai a mettere? Vieni che ti faccio, che ti spiego, perché non sapevamo nulla. Ah, quindi al tempo, quando l'è incominciato, non c'era un impiego così diffuso di questo materiale? No, all'epoca si usava moltissimo come stampi, quindi gli archi, no? Delle case, le cornici, le colonne, si usava pochissimo, perché nel 2000, il massimo spessore di isolamento termico, ed era già un non plusulto, a chi lo metteva, era 3 centimetri. Rispetto adesso, che invece è quanto? Minimo è 16, 18, minimo, ormai per le normative vigenti, no? Ma secondo lei, in base agli studi che avete compiuto, perché immagino abbiate questo, anche un ufficio studi, il materiale che voi avete, che è stata la vostra fortuna, e comunque adesso ci farà capire anche il work in progress, il progresso, è superato adesso? Quindi ci possono essere degli impieghi di materiale diverso, andando in crescita, guardando anche i mercati internazionali, guardando i settori, e quindi fare un ulteriore balzo per l'azienda, o tuttora effettivamente, come può capitare in tanti ambiti, come il legno, il legno è sempre legno ed è straordinario, certe plastiche lo stesso, oppure questo è veramente è stato l'uovo di Colombo, ma è eccezionale per le sue prestazioni. Ma, guardi, oggi il polistiene espanso, la prestituale di impiego dal punto di vista europeo è l'88%, no? Quindi, ampissimo. Quindi, padroneggia il mercato, seguito poi dagli altri isolamenti termici, no? Quindi, oggi penso sia costo, beneficio, bontà, sia ancora, predomina ancora il mercato come isolamento termico, ma, andando avanti, nel 2002 siamo entrati nel mondo edile appunto con le cornici, gli isolamenti termici delle coperture, i capotti e via. Nel 2008 c'è stata una grande crisi, anche i capotti, sì, sì, tutto quello che è il polistiene espanso. Nel 2008 è stata una grande crisi edilizia, non so se, ma penso di sì, se la ricordi, e lì ci siamo tuffati in un altro mercato, che è il mercato del wellness. In un momento in cui comunque anche il settore del wellness aveva avuto, diciamo così, un attimo di tracollo. Bravissima, ed è stata lì un'altra sfida, un altro mettersi in gioco, nella fortuna che la materia prima e il materiale era sempre lo stesso, perché sia nell'imballaggio, sia nell'edilizia, sia nel wellness, la materia prima è sempre il nostro polistiene espanso. Infatti chiede alla regia se riesce, perché effettivamente è una cosa che mi viene in mente adesso. Voi avete nel vostro sito internet proprio il link del wellness, dove fate vedere l'impiego che non avrei neanche immaginato, nelle docce emozionali, nella sauna, il percorso knipe, le sedute, diciamo così, che ci sono proprio nei centri benessere, nelle zone termali, per esempio nelle zone termali, allora com'è che viene fatto? Vediamo se riusciamo ad aprire il link e vedere le immagini, però intanto ci racconti. Bravissima, lì è stata anche lì una grande sfida, perché appunto come vedete quella vasca ad esempio è stata esposta all'Equip Hotel, a una fiera mondiale a Parigi quella vasca lì, è stata, ripeto, la ricerca della spinta dell'acqua, del peso dell'acqua su un prodotto, ecco le vasche, le docce, su un prodotto comunque morbido, in un senso non rigido, non è cemento armato, quindi anche lì abbiamo... Quindi non è pietra quella che vediamo, cioè non è solo mattonelli? No, no, quella lì è un rivestimento che abbiamo fatto al nostro polistiene espanso, rinforzato con delle resine, con delle reti, con degli apporti cementizi e anche strutture in acciaio, dove in base alla tipologia di vasche o di dimensioni e di quantità di acqua, quindi tonnellate d'acqua, pensate alla spinta nelle pareti e il peso che va a gravare tutti i giorni, tutto il tempo, quindi anche le temperature, infatti il valore aggiunto di avere una vasca in polistiene espanso rispetto a una vasca tradizionale in acrilico e insomma e via, il valore aggiunto è che mantiene la temperatura perché se chi si fa la vasca, bravissima, e mette l'acqua calda dopo un po' deve compensare perché stando lì l'acqua si raffredda, invece con la struttura di polistiene espanso che ha vantaggi di, possiamo creare qualsiasi forma, ed è una bella cosa, ha un ottimo isolamento termico, è leggera, ma possiamo dare qualsiasi finitura anche, la resina piuttosto che il mosaico. Ma il mosaico viene applicato sopra quindi, quindi è mosaico vero sostanzialmente, ed è un materiale, ed è resistente come materiale, non è così? Assolutamente, infatti in tutti gli hotel dell'Alto Adise dove i telespettatori, ma noi che anche andiamo, la struttura sotto è tutta EPS, è tutta quella... Ma pensate, è incredibile. Allora dopo torniamo a vedere anche altre applicazioni, andiamo sempre alla scoperta di questa realtà, ma dopo la pubblicità, quindi tra poco. Al prossimo episodio